ed eccoci qua cari amici oggi 10 giugno siamo le locere di caldonazzo ma diciamo che il raduno sta entrando nel vivo nel cuore della manifestazione e adesso ci portiamo una breve diretta qua dello scarico del fiat 682 zavorrato di stefano eccolo qua così possiamo dire anche questo è finito nel canale del marvi guardate piano piano vai piano stefano guardate qua adesso ne seguiamo stefano un attimo stefano eccolo qua possiamo venire vieni vieni stefano ah ci sei qua eccolo qua insomma abbiamo qua il 682 n2 di stefano finalmente lo mettiamo anche questo lo mettiamo in saccoccia ed eccoci qua cari amici guardate appassionato di vecchi 682 il 682 di stefano zavorrato guardate la sua bella presenza qua c'è 682 l'hanno appena scaricato dal camion insomma insomma niente dai promette bene questo raduno e va bene così cari amici guardate poi sarebbe bello appunto vederlo all'opera insomma io ve lo faccio vedere così un po' un po' grezzamente però guardate un atto chiaramente di brandina è un spettacolo vederlo così insomma il camion tenuti bene il climatizzatore con un bel ventilatore vediamo qua il volante con il claccio un po' un po' crepato però dai va bene lo stesso se no ragazzi zavorrato eccolo qua abbiamo zavorato qua di stefano e niente qua veri amici ho fatto il mano in disaluta andiamo a questo punto a vedere il mesimo scarico del lancio esattato ragazzi una diretta che va eccolo qua vieni vieni stefano eccolo qua lo scarico già ho fatto vedere alle ober eccolo qua però è l'occasione sempre di filmare insomma lo scarico dai cannelloni è una buona occasione qua per filmare il camion perché dopo per un bel posto è un fermista a livello statico e allora noi filmiamo tutto un po' la diretta qua del raduno eccolo qua ragazzi bellissimo così insomma vedete sempre le operazioni qua di scarico bravo stefano dai e toni mani 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 toni eccolo qua guardate insomma abbiamo un po' la diretta dei camion di stefano eccolo qua lancia esattato col piacere tutta giù un po' duretto come avete visto la guida eccolo qua vai stefano adesso no niente va bene così ragazzi intanto ci riusciamo a gustare ciao a tutti